La cosa interessante di noi scettici è che siamo sempre alla ricerca di prove. Il punto è che cosa faremo se ne trovassimo? Tu che cosa credi? Credo che l'uomo preferisca mentire a se stesso che affrontare la verità. L'anno scorso il Vaticano ha ricevuto oltre mezzo milione di segnalazioni di possessione diabolica. Sono riprese di un esorcismo in Cile. Noi no! Noi no! Noi no! Non è il diavolo. È una ragazza molto malata. Non le serve un prete, ma uno psichiatra. Non pregavo da anni. Ma stanotte mi sono ritrovata a pregare per lei. Chi conosce conosce tutti i tuoi peccati. Non parlarvi. È il diavolo. Sto venendo a prenderti. Il tuo nome! Dimmi il tuo nome! Dio, aiutami! Se lo vuoi sconfiggere, devi credere in lui. Dio, aiutami! O che vuoi sconfiggere, devi credere in lui. Dio, aiutami! E, per esempio, la prima di questa, l'uomo è un'escrizione. E, per esempio, il tuo nome è un'escrizione.